Lucia Bosetti al termine di Italia-Olanda, è andata male, l'Italia è eliminata, il tuo commento? Mi dispiace perché è stata una brutta partita da parte nostra con tantissimi errori che ultimamente eravamo riusciti a limare, eravamo riusciti a gestire un po' meglio. In questa partita invece si sono visti un po' tutti i nostri difetti, complice anche l'Olanda che ha giocato veramente una bella partita, quindi brave loro. Ma ripeto, questa sconfitta non deve cancellare quello che di buono è stato fatto quest'estate, quindi io sono molto tranquilla e fiduciosa per il futuro e ovvio dispiaciuta. Forse il rimpianto più grande è non aver fatto vedere la vera Italia dopo anche il periodo travagliato di preparazione anche all'europeo, forse questo è il più grande rimpianto? Sicuramente oggi non ci siamo riusciti mai a esprimere, non è che si può dare tutte le colpe a noi perché sicuramente loro hanno spinto tanto, hanno spinto in battuta, hanno spinto a muro e soprattutto nei loro punti di forza non hanno lasciato tanto uno spiraglio su cui noi potevamo entrare. Grazie 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 Grazie